Credo che sia stata una partita in cui ci siano due facce molto chiare. Nei primi due tempi, io credo che, può sembrare strano ma abbiamo buttato via la partita nei primi due tempi, nel senso che per la qualità offerta, per il gioco che abbiamo fatto, per i tanti tiri aperti, presi, siamo andati a riposo con troppo poco vantaggio. Io credo che noi per i due quarti abbiamo fatto una migliore partita di loro, siamo stati più bravi, abbiamo avuto energia, abbiamo avuto freschezza, siamo stati bravi a mettere la palla dentro, a mettere la palla fuori, abbiamo difeso bene, però abbiamo sbagliato troppi tiri, troppi tiri aperti. Gli altri due quarti invece siamo calati, siamo calati in difesa, siamo calati in energia, chiaramente un pochino la chiusura del ferro ci è mancata e anche lì siamo stati sempre punto a punto, punto a punto, fino a che loro hanno avuto più forza, più energia, più bravura nel vincere la partita. Non ho tanto da recriminare i giocatori, penso che si siano battuti, si siano battuti forti, con intensità, eseguendo anche un buon piano partita, avendo circolazione di palla. Forse bisognava crederci un tantino in più nei momenti di difficoltà per poter vincerla, ma sono stati più bravi loro e bisogna riconoscerlo. E quindi adesso riazzerriamo immediatamente perché mercoledì c'è una partita, forse esagero, ma potrebbe essere qualcosa nella storia perché si potrebbe andare in una semifinale di Coppa Europea. È chiaro che non è facile recuperare i giocatori, adesso come adesso non credo che la Val faccia parte ancora della partita neanche di mercoledì, così per come ha messo il ginocchio, farà una vista martedì di controllo per vedere come è la situazione, quindi se saremo questi bisogna imboccarsi le maniche, aver fiducia, sapere che per 20 minuti abbiamo fatto una partita migliore di Milano. Non sarà facile farlo per 40 minuti neanche mercoledì, però bisogna farlo con grande convinzione e con grande fiducia. La Val, così solo per informazione, venerdì su un mezzo contatto ha girato un po' il ginocchio, non si sentiva sicuro nell'appoggiare, si è fermato venerdì, si è fermato sabato. Stamattina abbiamo visto se potrebbe essere la partita, ma il ragazzo non si sentiva stabile nei suoi appoggi. Quindi abbiamo preferito e ha preferito rimanere fuori. Vediamo, vediamo. Sicuramente io adesso sono molto focalizzato per la partita di mercoledì, in cui mercato o non mercato saremo questi, perché in Coppa non si può fare nient'altro. Come vi dicevo, martedì ci sarà questa vista specialista sia per lui sia per Amadì. Aspettiamo risultati, speriamo di avere un po' di fiducia in questo. Guarda, io ti dico molto seriamente, per me è una difficoltà immensa, perché lui non dovrebbe superare i 20 minuti di giocato per non giocare la prossima. E' difficilissimo, è difficilissimo. Tu speri che... Adesso io non ho visto neanche che prima di che 24 non ha fatti i minuti. E' difficile, è difficile la gestione, è difficile cercare di trovare sempre l'equilibrio giusto. Per... Chiaro che mi sembra abbastanza evidente, fosse stato per me, avrebbe giocato 40 minuti, però prima non ce la fa e poi così. E poi c'è anche da dire oggettivamente, oggettivamente mi sembra che in quasi tutte le partite, comunque avendo una base anche di allenamento abbastanza bassa, nel terzo e nel quarto tempo comunque lui cala, anche quando è in campo, è stato bravissimo a chiudere il ferro nei primi due quarti, ha avuto grande difficoltà nel chiuderli nei secondi due quarti, dove si è presi tra il quarto e sotto mani, ha sbagliato qualche tiro da sotto. Mi sembra che il coinvolgimento che lui possa prendere quando è un po' più fresco che il dopo, ci sia una grande differenza. No, non credo che abbia avuto l'ambustola in maniera assoluta, credo che ce la stiamo giocando, una buona per la canestro finché ci siamo e poi dopo c'è un'alternanza di vittorie e di sconfitte dovute anche agli avversari. Io credo che è chiaro, sappiamo di essere in un periodo difficile, sappiamo di essere un periodo in emergenza, sappiamo che facciamo grande fatica ad allenarsi, però non mi sembra affatto che sia una squadra allo sbando, che giochi male o che butti via delle cose. abbiamo sicuramente dei problemi di un po' di freschezza, dei problemi nel lungo, però non penso che sia una squadra così che ha perso la bussola e avanti all'intervallo. Ripeto, secondo me lì all'intervallo noi avremmo dovuto essere avanti di molto di più, anche perché lo si vedeva anche dalla valutazione, che eravamo una cosa tipo 50-26, una cosa del genso, non è... eravamo... sì, 50-24, eravamo 50-24 di rotazione ed eravamo avanti solo di tre punti. Io credo invece che ci sia... che ruota e ruota, alla fine forse siamo un po' corti, alla fine siamo un po' poco allenati, abbiamo un po' di problemi di metterla lì, però bisogna anche dire che questi erano Milano e sono arrivati all'ultimo quarto belli tonici per poter fare una grande partita e noi siamo un po' calati in difesa. Però, ripeto, non mi sembra assolutamente che sia una squadra che stia mollando un centimetro sotto l'aspetto di poter provare a vincere le partite. Onestamente no, dopo magari sono domande un po' più magari da rivolgere a Nicola e alla situazione di staff. Io, ripeto, cercherò di essere e di rimanere molto più concentrato e focalizzato per la partita di mercoledì, che prevedo veramente molto difficile. Speriamo che Fesenco non accusi di aver giocato 4-5 minuti in più di quello che avrebbe potuto. E c'è un appuntamento importante mercoledì, quindi vediamo. Poi dopo aspettiamo anche notizie da lì, però... E se no, ci ho parlato prima, è stato un piacere. Adesso credo che sia con Nicola. Vediamo.